È impossibile dire una data precisa, non occorrerà che tutte le banche siano già coperte dal nuovo sistema di vigilanza, comunque la messa in opera del sistema avverrà nel corso del 2013, quindi a un certo punto del 2013 la effettiva operatività anche della ricapitalizzazione diretta delle banche, senza passare dai bilanci statali, dovrebbe potersi avere.